Questa storia del potere del popolo al governo è una cosa inesatta e io vorrei per il vostro tramite lo capire agli ascoltatori. Il governo non è eletto dal popolo, non esistono governi tecnici o politici perché ogni governo quando riceve la fiducia dal Parlamento diventa subito politico. Quindi questa è una grave inesattezza e in più vuoi capire da voi quale sarebbe questo bullus alle libertà dell'economia attuale e del mondo attuale. Mi ricollego all'intervento, non lo so neanche definire, del signor Fusaro che avete mandato adesso in onda. Se a Fusaro non piace questo neoliberismo imperante di cui parla, a lui piace tanto questo suo lessico, affascinante devo dire, si candidasse, portasse idee nuove e se viene eletto, eccoci qui. Eccola la libertà, signor Duranti, la libertà che la nostra Costituzione ci garantisce. Non è vero che la libertà è sospesa, io la prego, dato che Radio Radio è un circuito molto importante e che a me piace molto come utente da 30 anni l'ascolto. Usiamola bene, Duranti. Però, professore Ino Andrea, il problema è che quando ci confrontiamo su questi temi, poi non bastano i tre minuti perché se tu butti un sasso nello stagno poi devi comunque attendere che tutte le ondine si fermino. Quindi non è proprio così. Il problema è che bisogna stare poi vicino alle persone, bisogna capire il tessuto sociale. Il professor Malvezzi non diceva questa cosa che dici tu, si riferiva a un concetto più generale, a un concetto filosofico, con lo stesso concetto al quale si riferisce il professor Fusaro ugualmente. Quindi tu non puoi confondere un concetto filosofico e un concetto generale di governo del popolo con i tecnicismi delle elezioni. Sono due cose... Aspetta, non ti ho interrotto, quindi per favore tiralo giù. Non ti ho interrotto, tu non interrompere me. Allora, quindi il concetto è diverso. Noi stiamo parlando di un principio generale. Noi stiamo dicendo che l'alta finanza è quella che ci sta governando. Se tu sei contento nel megaliberismo che ci impone i social network che poi ti censurano, che ci impone le grandi reti unisone, praticamente a corde unisone, un'unica nota, sempre e solo quella che va benissimo e nel quale tu non puoi entrare perché c'è un circolo vizioso. Se tu basti pensare che i conduttori sono sempre gli stessi, sono amici degli amici, sono addirittura mogli o mariti dei potenti. Non ci dimentichiamo che, ad esempio, la Mirta Merlino della Sette è la madre del figlio di Arcuri. Cioè, vuol dire, hanno fatto un figlio insieme, sono stati insieme ed ora tu stai a parlare. Cioè, che ci sono dei conflitti di interesse giganteschi che muovono queste persone. Vanno in tv soltanto pseudovirologi o medici che hanno avuto incarichi, parcelle onorari da case farmaceutiche che sono le stesse che oggi ti propinano un vaccino tirato fuori dopo pochi mesi, che è una cosa antiscientifica completamente. Ecco, se questo è il liberismo che tu vuoi, ne possiamo parlare, Andrea. Però non è, certo, in tre minuti lo sobbiamo. Vieni qui e ne parliamo un giorno. Magari, magari, ma con grande piacere. Però non così a slogan. Parliamone con i fatti. Vediamo l'economia. Scusami, tu hai parlato del professor Mavizzi che ha parlato del metodo di governo strumentalizzando una frase che ha detto che non era così. Parliamo dei dati che ci ha dato. No, perché il governo del popolo non vuol dire la cosa tecnica. Il tecnicismo è un'altra cosa. Il governo del popolo, sì, da democrazia vuol dire governo del popolo. Dopodiché andare a ciurlare nel manico con la matita blu è veramente, io scusami Andrea, ma lo trovo anche offensivo, perché allora confrontiamoci con le matite, tu metti la tua, io metto la mia e poi discutiamo. Però sul dato, purtroppo quello è incontrovertibile, che l'Italia abbia fatto un passo uno, dieci passi indietro nel benessere del popolo, del paese in generale, delle classi operaie, delle classi medie, beh, questo mi pare evidente. Quindi certamente non ha sbagliato il professor Mavizzi, ma hanno sbagliato quelli che si sono alternati al governo, primi fra tutti i grandi scienziati, professori con le matite blu, da Monti a Draghi, che oggi si ripropone, speriamo con un'idea diversa, eccetera. Non so se tu sei d'accordo, ma se ti va ne parliamo qui, perché qua al telefono non è semplice. Andrea, comunque... Guardi, posso portare la mia esperienza sulla Costituzione, ma sarò felicissimo e lieto di stare lì con voi. Bene, e allora guarda, ti invitiamo quando noi presenteremo il nostro volume sulla Costituzione, sul quale stiamo lavorando da mesi, e che abbiamo dovuto rinviare, perché per quello che è successo ovviamente al governo e ai fatti che ci hanno travolto, ci hanno fatto slittare la presentazione. Noi presenteremo la Costituzione. Grazie Andrea. Perché questi grandi professorini, ricercatorini, no, alla Mario Tozzi, come questo Andrea, eccetera, loro fanno i ricercatori... Ma che ti ricerchi? Qual è il problema? Vallo a vedere nei libri di storia quello che è accaduto. Io non sono d'accordo, Fabio, con quello che dici, però. Io penso che loro abbiano un'opinione alla quale si può rispondere. Non si tratta di minimizzare nessuno. C'è una differenza. Io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, ma non voglio che neanche gli altri lo insegnino a me e mi facciano i professori con la penna blu. Andrea partiva da un assunto. Dice che non è il popolo che nomina un governo, ed è vero. È il Parlamento. È un tecnicismo. Il popolo nomina le persone che faranno il governo. Nomina il Parlamento. Il Parlamento fa il governo. Però bisogna... Sì, nemmeno il Parlamento, poi c'è il capo dello Stato che lo fa. Però qua non ci prendiamo per il culo. Diciamocela proprio alla romana. Eh no, abbi pazienza. Sono delle cose giuste. No, non è vero. Il popolo elegge i rappresentanti nella Camera dei Deputati, nel Senato della Repubblica, che poi voteranno e deleggeranno un governo. Quindi è il popolo la base. Ma se il popolo è stato ingannato con un progetto che poi non si è realizzato e non gli si consente di tornare a votare, questo è il punto. E non ci prendiamo per i fondelli, per favore. Fabio, tu pensi che costoro siano molto diversi da quelli votati? Non me ne frega niente. Sono sempre gli stessi. Non mi fare il discorso di quello che parcheggiano in doppia fila perché ci parcheggiano tutti. Non mi fare il discorso di quelli che parcheggiano in doppia fila perché parcheggiano tutti. Se c'è stato un errore, se c'è stato un problema, correggiamo il problema e non diciamo che il problema non esiste. Ok? C'è stata una forza politica, in particolare il Movimento 5 Stelle, che oggi è il 33%, che ha chiesto il voto degli italiani perché doveva aprire il liberismo, perché doveva aprire queste regole finanziarie, eccetera, come una scatoletta di tonno. Ne sono diventati parte integrante ed anzi invece porta bandiera. Un inganno al popolo italiano ed è quello il senso delle parole del professor Malvezzi. Quindi chi ci vuole cogliere qualcosa di diverso è in cattiva fede o vuole fare il paraculo. Per cui stop.